bentornati su pova dalla banana ciao a tutti ciao oggi continueremo assassin's creed uniti per ps4 eravamo rimasti la porchetta no c'erano iniziale eravamo rimasti che praticamente scappamo dagli stati generali no ma si si è vero è vero scappare stati generali con quei due che ancora c'è il secondo orologio ancora ero ragazzo dell'olio compro io un orologio eravamo rimasti la sì sì ok eccoci qua eccoci qua alla continuiamo vediamo un attimo che dobbiamo fare coi e siamo al quartiere decogliere su mongoloide cori cori ok allora hanno domandato ma una bella destra ma la fangu vai 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 levate un po' levate cazzo tutti e pippe senti questo si fa rampicare io ma rapido è infatti vai vai su bello vai tieni si all'amorano da nel geriteo allora che si ritelli morti dai dai non ho trovato a ragazzo non andiamo e penso la io sto seguì non mi faccio lo sai come eravamo morti sto a seguire il coso io il punto esclamativo è sì deve così cominciamo questa nuova missione vediamo un po' un po' che dopo fa arriveremo prima o poi ho un diritto vai 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 dall'altra parte d'europa domanda bello bello però mi piace come si muove facciamo io non avendo mai giocato agli assassin's creed l'altro giorno c'è avuto qualche vaffacculo che cazzarola ti ha detto da andare là sopra ok arriveremo io poi come se il zoom ruota zoom eccolo così un po' troppo dove cazzo ti mando? torna indietro c'è stava no probabilmente ho sbagliato io che l'ho tolta da da la vappa l'ho tolto da la vappa ma non dovrebbe mancare tantissimo eh oddio dio arriva arrivatevi tutti cioè ce l'ha fatta comoda ce l'ha fatta eccolo eccolo siamo arrivati siamo arrivati 80 mesi si che è dentro casa di questo? no scusate eh scusate non ho fatto niente il quartiere St. Louis ok si siamo arrivati ah 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 dopo continuare dopo di dar foglietto a quello perché hai capito? dopo ancora da dopo ancora dal pizzino a quello ah ok allora alta società difficoltà a quale dice parte per parigi domattina introduciti al ballo del palazzo di Versailles per trascorrere la serata quelle che balle con la mannascopa stasera no foglietto vai dai vabbè ci frega niente del foglietto da mannascopa no allora buonasera Olivier il signor della serra è tornato il signor della serra tornerà molto questo c'è odia proprio ma che cazzo l'ha muovato che salirò a salutare Elisa allora non ci pensare nemmeno la signorina è ad una sua re esclusiva in suo onore a palazzo una festa non mi ha invitato nemmeno ah di certo l'invito sarà andato perso che cazzo stasera eh non l'ha invitato se vede che starà con qualcun altro la cornuton c'è ancora il foglietto vedi ma quanto tardi forse tra un'ora o tra tre forse non tornerà ah un piccio delle faccende dei miei padroni tu sei proprio struzzo olivier eh sì questo non si fa una financia fai di me toccanfezzano l'obiettivo vai all'ufficio di della serra ok vai dove sta l'ufficio della serra star al pianeta su quella del porto del porto del porto del porto dentro dentro si 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 dovrebbe star pianeta su e se mi rampico del qua facciamo primo si può di entrare dalla finestra però beh tant'è casa mia lascio come un'aperta altrimenti è casa del marchese vai ecco 3 e le due e passate dalla finestra siamo già passati allora e questo è l'ufficio della serra che devo fare qua salve qua forse devo consegnare questa lettera a qualunque costo va bene perchè te la cammini così posso farla passare sotto la porta ahhh e che cammini alla pecorina non lo so infatti eh lascia la lettera che u dai non ci ha pensato sana e salva solo un po' in ritardo ma sicuramente non gli hai consegnato ancora a lui eh a palazzo a palazzo va eh eh non potrei entrare nelle fogne vestito così figurarsi a un ballo vabbè che c'è niente qui qui amico lascia che ci pensi io oh grazie ragazzo a questa penso bene che ti sei messo che ho benotredam ah non vediamo come stai messo mio mio pò tocca capire perchè tutti quando passi facciamo poi parla in italiano con noi ah è vero st ah allora vediamo un attimo cosa siamo vestiti va ah ah vedi che figurino ah vedi che roba una pettinata che almeno parlo io in effetti che si cf o maximiliano non spiega meccoyon asso roberts che erano spiega snarno il cavaliere d ilenna l'invito per favore a proposito ce l'avevo proprio qui ma nel tragetto niente invito niente ingresso uscito dalla fila il prossimo questa fa sta locale questa partire ecco altesavoluto mette in lista per cento di aprile si vede 2 ma dai su massimo faremo non si muove non abbiamo stato l'ordine e che c'è se fanno spaventata non è la ringhiera ho fatto tutto sul cornicio i fuochi non vedi davvero, io passo da sopra infiltrati ok oh, trovi lì chi è adesso? chi è adesso? siamo leggermente movimento silenzioso ah ok, dobbiamo fare proprio così vada cazzo mi vedono questi non posso passare qua per forza dell'arte e per forza dell'arte io ho capito ma mi vedo si sono spostati si sono spostati si hanno detto in finestra per i fuori vai vai c'è un altro amore un'altra sinistra qua che vuole non c'è n'altro questa stanza sta sempre le spalle verità sempre le spalle che ne sono due ma faccio non ci passi madonna va sorti questi mu ma mai esci da qua da tu, dalla finestra no, c'è sta porta ad aprirlo ovviamente vai col cazzo le sue scarpe costano un mese di pari no, dovemo usci dalla... la finestra da sta finestra qua, si ok vai di qua Arnaud tondo, tondo, lasciati oh, lassù, fermo e che cazzo mi farai entrare se scendo cosa? certo che no beh, tu sei proprio strusso allora resterò quassù vieni qui ma comunque comincerà a cercarci ci vediamo dopo in giardino ok, le guardi trovo trovi lì ok guardia abbiamo troveri lì c non ricordo l'ultima volta che ci siamo trovati tutti dovrebbe essere stato per quella dovrebbe stare quest'area verde dalla mappa dovrebbe essere eh sì forse di là c'è un'altra porta ragazzo stava questa no ma trovammo ma trovammo e lì ecco la stava anelli c'era così brutto questo ballo ben giovane e apposta ma ricordavo diversa grazie come no, da ragazzina sì ah, da ragazzina sto fermando la segnale e non manca da seguire ok avete sentito il re nuove tasse niente ah vabbè queste sono delle chiacchiere di palazzo non mi lasciamo fregare da quel tipo ragazzo io che ci avevo o scemo dietro ma sentito ho sentito una voce eh non mi lascia da affogliare a quel tipo tu fa una fina c'è insieme a Livier tu dici andrea un lì è Francesco Livier eh lì è 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 lì ha uno sguardo un po' birichino la donzella vedi se sta una fratelli vedi ecco fatto hai causato parecchio fermento direi che devo dire eri un cattivo esempio no, eri tu il peggiore ecco fatto vedi ho detto indossi uno degli abiti di papà e tu indossi un abito dai ha fregato il padre mi sento una mummia rinchiusa qui dentro deve essere un'occasione speciale allora dai su a dire il vero è tutto così pomposo e mondano una noia vedi quando non mi inviti alle tue feste finisce sempre male ho provato vedi il padre ecco fatto vai li distraggo io oddio mio è quello del riva è complicato ti spiego dopo ma ora fuori dalla finestra oh no 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 non andrà a finire come quella volta al meleto non fare il bambino sono sicura che non c'è nessun cane da guardare stavolta va guarda guarda va guarda passiamo una vita a scappare noi sui tetti dai finestre tutti i tavolini esci dal palazzo senza farti notare allora qua sopra non c'è falso lì perché ci stanno quei cazzo le spuntoni io direi che potremmo pure scenni esatto e scenni muoviamoci si stanno su guardia destra ma ne potremmo accoppare noi e no ma no che spreco di tempo non c'è nessuno qui ma chi scelta si muovono ehi aspetta un ultimo b parola non è importante non ma magari silenziosamente riesce a arrivare dietro dietro non entrare in conflitto dice ok no non c'entriamo in conflitto tacci vostra ah si è girato se è girato cioè stanno pure tu appena entri eh qua scommetto che uno di questi nobili mi vomiterà sulle scarpe oh madonna spera che no vai 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 allora mo non ma vai vai che stanno uscendo all'altra parte ma se fenomeni sei guardio si c'è la prima che è fatta no? siamo nel cortile si guarda qua non ci sembra non ci sia quindi direi che tutto bene signore oddio troppo champagne del re questo è della sera oh eh calla cosa siamo giocati ahhh vieni via guardie aiuto criminale mortacci tua è stato lui chi era quello giu le mani madonna siamo fatti a confà così ecco ecco c'è la subito che è colpa nostra vabbè vi lasciamo così vi lasciamo così vediamo ciò della serie la sorpresa con noi vabbè ci vediamo al prossimo video questo gioco ci sta piacendo mi piacciono un po' tutti i giochi a te ti piacciono un po' tutti infatti sei un po' non tanto la mia considerazione ok ok vediamo come va a finire il prossimo video alla prossima ciao 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 ciao